Denunciati dalla Polizia di Stato due imprenditori agricoli inisce mesi di 42 e 61 anni per sfruttamento lavorativo di 20 braccianti. Da quanto emerso dalle indagini, gli operai avrebbero percepito 5 euro l'ora. Nessun giorno di ferie o aspettativa per malattia sarebbero stati privi della maggior parte dei diritti dei lavoratori previsti dai contratti collettivi, tranne che per il riposo settimanale. Per loro non c'era neanche il bagno né cassetta di primo soccorso. Queste sono solo alcune delle regolarità in violazione alla normativa che inquadra quanto accaduto come sfruttamento del lavoro. Sulla lotta al caporalato era stato chiaro già nel 2021 il questore di Caltanissette Emanuele Ricifari che più volte durante i mesi scorsi ha sottolineato la priorità al contrasto dello sfruttamento lavorativo del caporalato con controlli mirati e predisposti in modo attento. Così la squadra mobile e il commissariato di Gela hanno dato inizio a tutta una serie di verifiche sulle campagne nissene tra cui un'importante parte del piano stella del comune di Gela dove erano presenti in consorzio 5 aziende. I poliziotti hanno lavorato in rete insieme al personale specializzato dell'Inps e dell'ispettorato del lavoro. Una volta dentro l'azienda, vista la presenza di decine di operai che stavano raccogliendo ortaggi, hanno verificato la regolarità di ogni singolo bracciante agricolo. 20 di questi irregolari sarebbero stati sfruttati da due imprenditori ora indagati ed avrebbero accettato quelle condizioni solo perché hanno dichiarato di non aver avuto altri mezzi di sostentamento, uno stato di bisogno di cui si sarebbero quindi approfittati. Le fonti di prova raccolte dagli investigatori sono state poi trasmesse alla Procura della Repubblica del Tribunale di Gela per un'attenta valutazione dei fatti contestati e le indagini sono in corso per le successive fasi del procedimento penale.